Il Rotary ha un'attenzione pluriannale ai disabili, a coloro che sono portatori di disabilità. Noi organizziamo ormai da 15 anni a Porta Potenza Picena un campus disabili insieme agli altri Rotary Club delle Marche per 100 ragazzi disabili con 100 accompagnatori a nostre spese. Ora su Fano esisteva secondo me l'esigenza di integrare e l'integrazione è proprio stata realizzata sia con l'acquisto, con le nostre risorse dell'altalena disabili, sia con l'acquisto posizionato all'interno dello stesso parchetto di due giochi per normodotati perché quello è un parco, un parco giochi, un parco dove ci si diverte e dove tutti i bambini, indipendentemente dal fatto che siano disabili o normodotati, hanno diritto di trovare qualcosa con cui divertirsi.